Ma quanto costa ormai una fotocamera? Quanto dobbiamo spendere se vogliamo fare delle foto e dei video decenti? Nel corso del video di oggi vado a presentarvi una soluzione con un prezzo calmierato di 1500 euro con cui potremo realizzare sia ottime foto che ottimi video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere da tanti anni. Siccome spesso e volentieri vi ho portato soluzioni che prevedevano l'utilizzo del sistema Canon, oggi vado a portarvi qualcosa di diverso. Soprattutto vi porto una soluzione che prevede di investire delle cifre minori, perché in tanti mi avete detto insomma belle le cose che presenti però costano un sacco di soldi. Ebbene, nel corso del video di oggi vi presento una soluzione con cui abbiamo un po' di tutto e possiamo quindi realizzare sia delle ottime foto che degli ottimi video con una cifra che non supera i 1500 euro. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. Se vi piace questo format fatemelo sapere in un commento perché potrei portarvi altri contenuti dove andiamo via via a vedere con delle cifre limite, quindi so, limite di 2000 euro, limite di 40.000 euro, lo decideremo di volta in volta e vedremo che cosa ci possiamo comprare di bello per realizzare ottime foto e ottimi video con una cifra che non distrugga completamente il conto in banca. Andiamo a incominciare. Partiamo con la cosa più semplice, partiamo con la fotocamera. Ho selezionato per voi la Sony ZV-E10 2K, una soluzione che io personalmente ho avuto modo di vedere in azione in occasione delle riprese di un videoclip. Giravamo un videoclip, io facevo la parte fotografica, c'era un videomaker che utilizzava proprio questa macchina. Sono rimasto colpito innanzitutto dal rapporto potenza-dimensioni. Per le dimensioni di questa macchina, che per me veramente è un microbo, è piccolissima, però le prestazioni sono notevoli e il prezzo è molto molto simpatico perché noi qui abbiamo una combinazione di fotocamera più obiettivo kit per 1199 euro, che è una cifra secondo me assolutamente abbordabile. Poi fatemi sapere nei commenti se volete dei kit più o meno costosi, ne parleremo poi nel corso eventualmente di prossimi video. Per i miei standard questa è una macchina non costosa, considerato che è una soluzione all-in-one. Abbiamo un obiettivo che è un 16-50 mm con un'apertura variabile, che è una cosa per cui io non stravedo mai, però stiamo parlando di una soluzione economica che ci mette comunque in grado di fare un po' di tutto. È un obiettivo kit da assaggiatori con cui riusciamo a fare una grande varietà di foto e di video senza bisogno di cambiare ottica, quindi ovviamente è una soluzione a risparmio. Se volessimo qualcosa di costoso e di sfavillante andavamo su Hasselblad, su Leica e lì potevamo lasciare giù tutte le milionate che volevamo, però in questo caso è una soluzione che ci permette di portarci a casa dei file decenti spendendo il meno possibile. Andiamo avanti e per non farci mancare niente io in questo kit vi metto anche un treppiede e ho selezionato per voi un treppiede di Small Rig. Ah, giusto affinché lo sappiate, ci saranno i link in descrizione di tutti i prodotti, quindi potete andarvi a vedere esattamente il prodotto di cui vi parlavo, perché magari l'immagine può non essere indicativa, ci possono essere dei malintesi, ci sono tutti i link, quindi potete andarvi a vedere esattamente il prodotto a cui faccio riferimento senza possibilità di errore. Questo è un treppiede di Small Rig che costa 79,90 euro, ora i prezzi friendly a me fanno letteralmente schifo, cioè questo è un treppiede da 80 euro, inutile girarci intorno, però siccome il marketing vuole così ci piace mettere il set davanti, è un treppiede da 80 euro. 80 euro non è tanto per un treppiede, andatevi a vedere la recensione che ho fatto un po' di tempo fa per un treppiede di Sirui, che era un treppiede video con ben altre capacità e una portata diversa, quindi un treppiede in grado di reggere dei pesi molto maggiori rispetto a questo che vi presento oggi. Questo è un treppiede che va bene con la macchina di cui abbiamo parlato poc'anzi. Se voi andate a vedere il treppiede di Sirui costava 800 euro, una roba del genere, quindi costava 10 volte tanto, quindi un treppiede da 80 euro io lo reputo assolutamente abbordabile. E in questo caso questo treppiede di Small Rig, oltre a essere abbordabile, è anche ben costruito, ben congegnato e ci può permettere di fare tutta una serie di fotografie con la nostra macchina precedentemente selezionata in diversi contesti con una grande soddisfazione. Parlando di treppiede, voi ormai lo sapete, io sto diventando fanatico dei filtri, vi ho selezionato anche un kit di filtri. Qui abbiamo il Nano X di KNF Concept, attenzione bene, questo è un kit di filtri ND, in particolare abbiamo il 4, l'8, il 64 e il 1000, quindi sono filtri conseguenziali. Man mano che li vai ad aggiungere vai a tagliare sempre più luce. Servono per fare delle pose lunghe, andatevi a vedere il video che ho già pubblicato sui filtri in easy, se volete capire meglio di che cosa si tratta, è uno degli ultimi video che ho pubblicato e parlo approfonditamente di come si usano i filtri ND e dell'effetto meraviglioso che possono regalarci. Questi, come detto, sono filtri da 77 mm, quindi non vanno bene sull'obiettivo che vi ho presentato insieme alla fotocamera, perché quello è un obiettivo con un diametro inferiore. Però esistono diversi modi per adattare filtri più grandi a obiettivi più piccoli, e insomma una soluzione si può trovare. Oppure potete andare a cercarvi filtri compatibili con l'ottica di riferimento che avete deciso di prendere. Il concetto però è che, secondo me, se volete fare fotografia a livello un po' serio, prima o poi una posa lunga con dei filtri ND o con un polarizzatore la vorrete fare. E quindi vi ho messo un kit di filtri che comunque costa 84,99, io la odio, questa 85, costa 85. 85 euro per un kit di filtri con la loro custodia che vi tenete sempre in borsa e quando vi servono li tirate fuori e li montate. Andiamo avanti. Per gli appassionati del video, qui abbiamo una soluzione che ho già recensito tempo fa. Questa è la soluzione che utilizzo spessissimo per il mio cliente, 9000 giri elaborazioni autosportive. Andatevi a vedere il suo canale se vi interessano le autosportive, ne vedrete delle belle. Ed è un cliente per cui realizziamo spesso dei contenuti video utilizzando proprio questo microfono. Quindi avrete anche proprio la prova audio all'interno di cui i contenuti sentirete esattamente come performa questo tipo di microfono. Questa secondo me è la soluzione con il miglior rapporto prezzo resa perché costa 139 euro senza il 99 stavolta. Quindi dai 140, facciamo 140 euro. È una soluzione con una custodia con all'interno tre pezzi. Ci sono due microfoni e un ricevitore con il suo cavetto per attaccarlo alla videocamera. Noi mettiamo il nostro microfono qui sul bavero e abbiamo la registrazione pulita dell'audio del parlato. Io utilizzo questo bestione qui perché preferisco, perché mi dà una qualità maggiore. Però chiaramente è un ingombro diverso perché questo è un microfono da tavolo. Questo io non posso portarmelo in giro. È qui fisso con la sua piantana. Mentre questa è una soluzione che posso portare ovunque. Li tiri fuori, li colleghi, attacchi il cavo, si connettono automaticamente e registri il tuo audio pulito senza nessun problema. Una soluzione così smart per un prezzo così resicato. In anni passati era difficile trovarla. In anni passati ti dicevano sì, ti prendi un mixer, l'impianto stereo, microfono, Neumann, di qua e di là spendi 6.000 euro. Invece adesso 139 euro secondo me è una cifra assolutamente abbordabile. Che cosa abbiamo qui? Che cosa vi presento adesso? Questo è un trigger. Andatevi a controllare bene la compatibilità perché poi non è detto che prendiate esattamente quello che vi ho detto io. Esistono tanti prodotti con tante compatibilità diverse. Questo è un trigger remoto che io ho trovato che su Amazon mi viene dato compatibile con la macchina che vi ho presentato all'inizio, con la Sony che vi ho presentato all'inizio. Quindi con questo telecomando noi possiamo andare a fare tutta una serie di operazioni tra cui ovviamente la più importante è scattare senza più dover toccare la macchina. Quindi se vogliamo fare una posa lunga, se abbiamo la macchina su tre piede, possiamo scattare o usare la modalità bulb. Quindi utilizzare delle pose lunghe superiori ai 30 secondi, magari 3 minuti, 10 minuti, quello che vogliamo, semplicemente con una pressione di questo telecomando, quindi senza più andare a sollecitare la nostra fotocamera. Abbiamo anche la possibilità di zoomare avanti e indietro nel caso in cui abbiamo una fotocamera con uno zoom motorizzato. Non è detto che sia il nostro caso, però c'è anche questa possibilità. Prezzo di listino 29,90, 30 euro. 30 euro e vi portate a casa questo telecomando. Io mi ricordo, io uso sempre l'RC6 di Canon che costava un po' di meno, costava 16, 16, 20 euro, però aveva un pulsante solo. Questo qui ha più pulsanti e ci permette di fare più cose, quindi con la compatibilità con Sony e con questi diversi pulsanti abbiamo la possibilità di andarlo a integrare all'interno di un kit dove magari lo usiamo anche per cose diverse. Benissimo, ma andiamo a fare un recap. Abbiamo la Sony ZV-10 2K per una cifra di 1199 euro. Abbiamo il treppiede di Small Rig per 80 euro. Abbiamo il Nano X di KNF Concept, quindi abbiamo quattro filtri ND per 85 euro. Abbiamo il microfono, il doppio microfono, l'ARC M1 per 139, 140 euro. E abbiamo il JJC RMTP1BT, nomi più corti per favore, per la cifra di 30 euro. Tutto questo sommato arriviamo alla cifra di 1532,88 euro, una cifra che secondo me è abbordabile per la maggior parte dei fotografi e quindi questa è la strumentazione che vi consiglio se volete cominciare a fare fotografie ai video con un kit quanto più completo possibile con cui potete già cominciare a lavorare, a tirarvi fuori le prime soddisfazioni però senza svenarvi completamente. Ok, è arrivato il momento che io vi faccia una confessione. L'audio non è stato registrato correttamente per il finale di questo video e quindi sto reincidendo solamente la parte audio finale e quindi non posso mostrarvi l'immagine perché c'è una discrepanza tra audio e immagine registrata. Spero che problemi come questo non si ripetano mai più e per questo motivo stasera digiunerò per autoinfliggermi una punizione in maniera tale che questo non si ripeta. Ciò non di meno amici, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete assistere ad altri siparietti divertenti come questo. Lasciate anche un like a questo video perché voi non ve ne accorgete ma mi date una grossa mano con l'algoritmo. Io vi do appuntamento come sempre al prossimo video e buona luce a tutti! Grazie! 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 Grazie!